Vi siete mai chiesti perché sono nati i BRICS e che cosa sono effettivamente i BRICS? Perché si sentono in continuazione a parlare di BRICS, di come ci salveranno, di come sono nemici degli Stati Uniti e della Nato. Ecco, allora intanto partiamo da un assunto. I BRICS sono un'organizzazione internazionale che si occupa di economia e commercio ed non hanno nulla a che vedere con la difesa, quindi le guerre, le forze armate, e non sono un'organizzazione geopolitica, così come la intendiamo noi. La cosa più vicina ai BRICS che c'è nel mondo è l'alternativa dei BRICS ed è anche il motivo per cui sono nati i BRICS, ovvero il G7. Il G7 è un'organizzazione internazionale che raccoglie, racchiude quelli che una volta erano i sette paesi più ricchi del mondo. Una volta, perché adesso sono stati ampiamente superati i paesi del G7, i paesi del G7, che appunto una volta erano quelli che avevano il più alto PIL, il più grande PIL del pianeta, sono gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, la Francia, l'Italia, la Germania e il Giappone. Questi sono i paesi del G7. Per un certo periodo anche la Russia faceva parte del G7, che infatti si chiamava G8, poi è stata cacciata via. Allora, il G7 è anche questa, è un'organizzazione che si occupa di economia e di commercio internazionale. Però, costoro, lo fanno alla maniera occidentale, anche se il Giappone non fa parte dell'Occidente, lo fanno con lo spirito dell'Occidente. Qual è lo spirito dell'Occidente? Noi siamo più bravi, noi siamo più intelligenti, noi siamo gli unici democratici, siamo gli unici che capiamo come va il mondo, e quindi al di fuori dell'economia e del commercio abbiamo tante cose da dire, quindi imponiamo la nostra volontà a tutto il resto del pianeta. Cioè non ci occupiamo solo di noi stessi, ci occupiamo di tutti. E le nostre regole diventano regole assolute. Il mondo è andato verso una globalizzazione finanziaria, non perché l'ha deciso il mondo, non perché l'hanno deciso le Nazioni Unite, ma perché l'ha deciso il G7. Allora nel 2009, quando la pressione nei confronti del resto del mondo, dei paesi del G7, era diventata insopportabile, su impulso del Brasile, sono nati i BRICS. BRICS è un acronimo, un acronimo che vuol dire Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che sono i cinque paesi fondatori dei BRICS. Questi cinque paesi, che sono molto diversi tra di loro, sia come tradizione culturale, ma anche come struttura del paese, della società, come anche indirizzo politico in qualche modo. Il Brasile è un'enorme democrazia, che però non ha mai avuto legami particolarmente stretti con la Russia, che è un'altra gigantesca democrazia, ma una democrazia diversa da quella brasiliana, che peraltro è un Stato federale, come la Russia. Il Sudafrica è un altro Stato federale, ed è una democrazia recente, perché in realtà anche se si votava fino al 1994, le prime vere elezioni libere avvengono nel 1994, quindi uno Stato molto recente, la Russia nasce nel 1992, tenete conto di questo. L'India è la più grande democrazia del mondo, anche questo è uno Stato federale, che ha come caratteristica il fatto che dal punto di vista politico ci sono fortissime divisioni all'interno tra Stato e Stato, perché per questioni religiose, per questioni etniche e così via, la Cina di democratico non ha assolutamente nulla, quindi è proprio un'altra cosa ancora. Questi cinque Stati, distanti tra di loro, molto diversi tra di loro, con addirittura due di questi Stati, ovvero Cina e India, che non si sono mai amati, che sono addirittura fatti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, cioè da quando è nata l'India e da quando è nata la Cina moderna, sono perfino fatti la guerra questi due paesi, quindi pensate quanto siano differenti e quanto sia stato complicato metterli insieme, si sono messi insieme perché per creare una rete commerciale ed economica alternativa al G7, per non subire più i dettagli del G7. Questi Stati avevano in più una caratteristica non economica, non commerciale, ma politica, ovvero chi faceva parte dei BRICS non doveva in nessun modo giustificare la propria politica interna. Non importa se tu sei una dittatura, una democrazia, se sei una democrazia in un certo modo o in un altro, se c'è un governo che sta antipatico a tutto il resto del mondo, nessuno all'interno dei BRICS fa questioni, si azzarda a parlare di quello che fanno i paesi con il proprio popolo e all'interno dei propri confini. Questo è un elemento essenziale e l'elemento forse più dirompente di maggior divisione che c'è con i paesi del G7. Passano gli anni, i BRICS hanno, diciamo si solidifica in qualche modo il loro legame, pur restando ancora un'organizzazione non particolarmente potente, e poi accade una cosa, questa cosa cambierà tutto. inizia la guerra tra Russia e Ucraina. L'inizio di questa guerra cambierà probabilmente, non so se per sempre, ma comunque cambierà, ha cambiato il destino del pianeta. Perché? Perché tutti al di fuori di noi europei hanno la netta percezione che non è una guerra tra Russia e Ucraina, ma è una guerra tra Stati Uniti e Russia, ed è una guerra di aggressione, non del famoso invasore Russia, ma di aggressione da parte degli Stati Uniti nei confronti della Russia, e dei paesi NATO nei confronti della Russia, e quindi dei paesi del G7 nei confronti di un membro dei BRICS. Questa sensazione ce l'hanno chiara in tantissimi paesi del mondo. Ogni mese che passa, sempre più paesi si convincono di questo, e incominciano a pensare «ma il prossimo potrei essere io». E allora che succede? Succede che la Cina si salda con la Russia, anche la Cina e la Russia non si sono mai amati, ma improvvisamente la Cina guarda in direzione della Russia, e soprattutto la Russia incomincia a guardare in direzione della Cina. E poi succede che India e Cina, nonostante facessero parte dei BRICS, continuavano a non essersi particolarmente amati, improvvisamente incominciano a legare sempre di più. Ma accade anche altro. Altri paesi chiedono l'adesione ai BRICS, perché da quel momento in poi BRICS rappresenta una sorta di salvezza dal dominio occidentale, dal dominio economico e commerciale dell'Occidente. Nel 2024, cioè quest'anno, altri quattro paesi si sono uniti a BRICS, che oggi sono formati da nove paesi. I quattro paesi che si sono aggiunti sono l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti, l'Etiopia e l'Iran. Questi sono i quattro paesi, l'Iran e i Emirati Arabi Uniti, l'Etiopia e l'Egitto, che si sono aggiunti ai BRICS, e sono a tutti gli effetti i membri dei BRICS. E poi ci sono quelli che hanno chiesto di entrare nei BRICS. E la lista è infinita, sono ben 47 nuovi stati. E di questi 47 stati, ce ne sono 18 africani, 7 americani, 19 asiatici e 3 europei, che sono la Bielorussia, la Serbia e in realtà non è proprio uno Stato europeo, anche se è una parte di Europa, la Turchia. E pensate un po', la Turchia è perfino membro della Nato, è uno dei membri chiave della Nato. Questo vi fa capire quanto l'alleanza dei BRICS non ha nulla a che vedere con un'alleanza militare. La Turchia, che è membro della Nato, potentissimo, ha chiesto di entrare nei BRICS, perché è alternativo all'Unione Europea, e ha chiesto di entrare nei BRICS da quando è iniziata la vicenda israeliana, perché teme sempre di più la presenza ingombrantissima di Israele con l'appoggio degli Stati Uniti e dell'Europa, in Medio Oriente. Ma anche l'Arabia Saudita ha chiesto di entrare nei BRICS, eppure l'Arabia Saudita è stato fino a poco tempo fa il più fedele alleato statunitense, occidentale, in tutta quanta l'area, e le armi all'Arabia Saudita le stiamo dando noi, e dall'Italia, e dagli Stati Uniti. e l'Arabia Saudita ha deciso di entrare, ha fatto domanda per entrare nei BRICS, dove si trova l'Iran, che è il principale nemico dell'Arabia Saudita fino a pochissimo tempo fa. Insomma, sono tantissimi i paesi che hanno deciso di entrare nei BRICS per paura e per trovare un'alternativa. che cosa fanno i BRICS? Come hanno agito in tutto quanto questo tempo? Beh, volendo cambiare le regole del gioco, la prima cosa su cui hanno puntato i paesi dei BRICS è quella di trovare una valuta alternativa al commercio mondiale. Fino a più o meno due anni fa, cioè fino a quando è scoppiata la guerra d'Ucraina, più o meno il 95% di tutti gli scambi commerciali mondiali non importa tra quali paesi non importa che tipo di bene erano fatti in dollari. Il dollaro dominava il mondo e grazie al dollaro gli Stati Uniti dominavano il mondo. Grazie ai commerci fatti tutti quanti in dollari l'economia americana che è un'economia disastrata che ha, pensate, oltre 35.000 miliardi di debiti a un debito che ammonta oltre 35.000 miliardi si reggeva perché tutti i paesi del mondo dovevano comprare i dollari per commerciare e quindi tutto il mondo permetteva agli Stati Uniti di fare, diciamo, di scialacquare denaro, di fare, di consumare più di qualsiasi altro paese al mondo qualsiasi tipo di bene perché tanto c'è il resto del mondo che lo sorreggeva grazie al commercio col dollaro. I BRICS dicono no, ma perché dobbiamo dipendere dal dollaro? Ma perché dobbiamo dipendere dal circuito bancario SWIFT che è quello attraverso cui si fanno normali bonifici bancari che si è visto appena iniziata la guerra in Ucraina gli Stati Uniti perché è un circuito bancario statunitense, gli Stati Uniti hanno tolto alla Russia il diritto di poter entrare nel SWIFT e quindi di far parte del SWIFT e quindi di inviare bonifici all'estero perché bisogna per forza dipendere da quello che decide il G7 tutte quante queste cose se le sono poste i paesi dei BRICS e allora una soluzione l'hanno trovata smettere di usare il dollaro hanno iniziato da qualche anno hanno iniziato gli scambi per esempio in Yuan la moneta cinese anche in altre monete ma più di ogni altra cosa stanno cercando di creare una loro moneta non una moneta da usare all'interno dei paesi ma una moneta da usare per gli scambi internazionali e l'ultimo vertice dei BRICS che si è tenuto a Kazan che si trova qui sul Volga in Russia a cui hanno partecipato decine di paesi è stato un vertice gigantesco e ha partecipato perfino il segretario generale delle Nazioni Unite Gutierrez beh in quest'ultima occasione recentissima il presidente russo Vladimir Putin che era il padrone di casa ha presentato a tutti gli altri membri dei BRICS e a quelli che vorrebbero entrare nei BRICS ha presentato una specie di facsimile di una potenziale moneta unitaria per il commercio mondiale una moneta dei BRICS se e quando verrà si inizierà a utilizzare questa moneta probabilmente per il dollaro sarà la fine e se sarà la fine per il dollaro affonderanno gli Stati Uniti e se affonderanno gli Stati Uniti affonderà anche tutta quanta l'Europa un altro aspetto che stanno guardando i BRICS è perché loro partono da un'idea se i paesi che ci forniscono materie prime noi li deprediamo come fa l'Occidente come facciamo noi e questi paesi potrebbero essere per noi un problema dal punto di vista politico perché destabilizzati arriveranno immigrati ci saranno guerre e così via e poi non avranno nessuna capacità di acquisto quindi noi la nostra merce siamo sette a vendere sempre agli stessi e quindi ai paesi del G7 ai paesi dell'Europa se invece noi facciamo crescere questi paesi beh questi paesi potranno essere anche i consumatori dei nostri beni e quindi non si depredano i paesi e soprattutto bisogna far finire le guerre sembra una cosa stupida una cosa ovvia tutti dicono devono finire le guerre e no perché noi occidentali le guerre le alimentiamo le facciamo in continuazione loro invece non vogliono tant'è però che nell'ultimo vertice dei BRICS hanno presentato ufficialmente un piano per e l'hanno detto apertamente per un cessato di fuoco sia nella guerra d'Ucraina sia nella guerra israeliana cosa che noi non solo non abbiamo mai presentato ma noi come occidentali siamo sempre opposti ecco i BRICS sono tutte quante queste cose è meglio farsi gli affari propri di fronte a degli orrori che un governo commette all'interno del proprio paese come per esempio fa l'Arabia Saudita è una cosa controversa perché è evidente che sarebbe che tutti quanti noi vorremmo che nel mondo ci fosse più libertà però al tempo stesso noi abbiamo diritto di entrare negli affari interni di un altro paese come facciamo sempre magari scatenando guerre civili o guerre imponendo a quel paese dei modelli che quel paese non vuole magari portandolo all'autodistruzione beh sono ovviamente tutti o anche i temi che è giusto dibattere però è giusto vederli nella loro completezza perché altrimenti si sostiene che i BRICS sono una specie di terra promessa un luogo meraviglioso quegli altri sono cattivi o viceversa mentre non funziona così l'India è alleata militare degli Stati Uniti è alleata militare del Giappone è alleata militare dell'Australia quindi non è amica dal punto di vista militare della Cina eppure vanno d'amore e d'accordo con la Cina e fanno parte dei BRICS tutte e due gli Iran e l'Arabia Saudita che sono stati i cani e il gatto fino adesso hanno trovato il modo non solo di fare la pace ma di fare delle esercitazioni militari congiunte addirittura quindi forse non sarà la migliore organizzazione commerciale e economica le ricette politiche non saranno le migliori ma almeno almeno loro ci provano a cambiare questo pianeta e a non a distruggerlo come stiamo facendo noi giorno dopo giorno noi occidentali intendo ciao a tutti